Sono passati cinque giorni dall'esplosione dell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Cosentino Sava a Catania, un buato che ha sconvolto l'intero quartiere di Cibali. Oggi, davanti a quello che a tutti gli effetti è un edificio fantasma, alcuni abitanti raccontano ai nostri microfoni quegli attimi di paura e ciò che hanno dovuto affrontare in seguito. Disagio e problemi legati alle impossibilità, almeno per ora, di rientrare nei propri appartamenti. Con il pigiama, la vestaglia, siamo scappati da casa e ci siamo messi sulla strada. La casa era con sparsa di vetri, siamo 12 famiglie sfollate, c'è chi non ha casa dove stare, quindi è ritornata a Reggio, a Palermo, dai primi parenti che possono dare aiuto. C'è freddo, siamo senza casa, dobbiamo proteggere le case dallo sciacallaggio. Non ci sono fondi, quindi in questo momento stiamo provvedendo anche a pagare una vigilanza. Questa è tutta la nostra spesa, è tutto, tutto. Non si capisce, e se c'è un'assicurazione chissà quando pagherà, ma noi non possiamo aspettare, dobbiamo tornare a casa. Il quesito è quando ritornete nelle vostre case? Sì, questa è una domanda che facciamo tutti i giorni, dal primo momento quando è successo l'evento. Tutte le spese adesso di messa in sicurezza, c'è l'ordinanza del sindaco, sono tutte spese a carico nostro, che anche se riuniamo tutte le forze non possiamo coprire tutto. Però aiutateci. Dopo otto mesi che abito qua, io chiedo che a più presto si possa rientrare nelle case. In attesa che l'iter procedurale faccia il soccorso e sia stabilito una volta per tutte di chi siano le responsabilità di tutto questo, i residenti lanciano un appello alla cittadinanza. Questo è l'Iban con il quale chiunque può dare una mano alle 12 famiglie di via Sala per ricostruire le proprie case e mettersi alle spalle questa brutta situazione.